A Mattino Lombardia abbiamo altri due ospiti e torniamo a parlare di una realtà molto importante che si chiama Galdus. Cominciate ad andare sul sito www.galdus.it e adesso vi raccontiamo un sacco di cose interessanti. Abbiamo con noi Rossana Faudri, direttore comunicazione e progetti. Buongiorno. E poi Paola Missana, direttore generale scuola professionale Galdus. Buongiorno. Chi mi ricorda e ricorda, perché dico ricorda, perché siete già venuti a trovarci diverse volte, ne abbiamo parlato tanto, però è davvero una realtà importante anche perché si parla di ragazzi e della loro formazione, quindi bisogna essere molto molto precisi. Chi ci ricorda che cos'è Galdus? Provo io. Galdus è una realtà milanese e lombarda che si occupa di formazione, all'interno della quale abbiamo una scuola per i ragazzi dopo la terza media con tantissimi settori della formazione professionale, oltre 1400 ragazzi, settori che vanno dall'elettronica, informatica, ristorazione, fino al nuovissimo corso della cura del verde Zoo Garden. Poi abbiamo una formazione degli adulti con un'academy anche per i ragazzi che dopo il quarto anno si sono diplomati e un centro per il lavoro per consentire sia alle persone esterne rispetto a Galdus sia ai ragazzi che hanno frequentato tutto il percorso di trovare più agilmente un posto di lavoro. Allora voi siete venuti a trovarci perché dobbiamo parlare di un evento che si chiama Hashtag Piazza Galdus che mi è piaciuto tantissimo, è il motivo per cui vi ho chiamato stamattina. Arriviamo su questo evento che è importante e coinvolge anche tutti quelli che collaborano con voi che sono aziende molto importanti. Certo, si tratta di un momento nel quale Galdus vuole celebrare in maniera sintetica, in un'unica giornata, il lavoro che compie 365 giorni l'anno. Cioè un momento nel quale far vedere l'incontro tra la formazione e l'impresa e in che modo questo incontro riesce a generare dei risultati straordinari. Perché laddove in luoghi come Galdus le imprese riescono a confrontarsi con la formazione, poi si riescono a costruire dei percorsi condivisi, si riescono ad accompagnare giovani e adulti all'interno del mercato del lavoro. Le imprese si dispongono anche a rendere più competitivi questi ragazzi attraverso forniture di attrezzature e di macchinari. Quindi tantissimi sono i modi attraverso cui le imprese collaborano con Galdus. Abbiamo da Italy che forse è stata la prima impresa che ha inserito in apprendistato di primo livello i nostri ragazzi. Panino Giusto che attraverso un progetto che si chiama Yes for the Future ha garantito a dei ragazzi che in questo momento sono in formazione di poter affrontare il mercato internazionale nei suoi punti vendita sparsi per il mondo. Piuttosto che Resto Italia e Razional ma anche Baron giusto, fai bene a ricordarmelo, che hanno regalato delle attrezzature sulle quali i nostri ragazzi, i nostri adulti, i nostri utenti possono lavorare ed operare. Ma così come loro moltissime altre, dalle grandi alle piccole, Pomellato mi ricordo che per tutto il 2017 un giorno alla settimana ha lavorato con i ragazzi sul tema della realizzazione di bracciali, di oggetti, di gioielli particolarmente pregiati. Lo stesso valga per lo chef Rubio che è con l'azienda Lo Scoiattolo con cui abbiamo costruito un percorso e un momento di comunicazione con i ragazzi ma anche delle associazioni di categoria tipo l'Unione Artigiani che con Galdus ha riconosciuto l'importanza della sinergia pubblico privato per agevolare l'inserimento delle persone nel mercato del lavoro. Ricordo anche che il 93% dei ragazzi poi viene inserito nel mondo del lavoro, è tantissimo, è tantissimo. Continuiamo a parlare di Galdus, ricordiamo anche il sito che è semplicissimo, Galdus.it, facciamo così, ascoltiamo un disco e poi torniamo a parlare sia di questo importante evento, hashtag Piazza Galdus, e poi torniamo a parlare anche della scuola e di tutte le possibilità che ci sono, insomma un momento anche per incontrare i genitori che vogliono iscrivere i ragazzi.